Questa è la piastra raglette, serve appunto per fondere il formaggio raglette, che è un formaggio svizzero molto famoso. La piastra è formata da una base con i piedini, marca Kranstein, poi abbiamo la base superiore dove vi sono le resistenze, come vedete io già sto fondendo del formaggio a pasta molle, qui abbiamo questa manopola che serve per alzare la piastra e fissarla all'altezza che volete, invece potete metterla anche più giù, e poi abbiamo la manopola di accensione col minimo e massimo, naturalmente andrà collegata alla presa di corrente. In pochi secondi avremo un formaggio delizioso, fuso, con una bellissima crosticina sulla parte superiore, come potete vedere il formaggio è già pronto in meno di un minuto. Potete riscaldare anche altri tipi di formaggio, evitando la mozzarella poiché caccia molta acqua. Comunque il prodotto è eccellente, funziona egregiamente, lo adoro. Naturalmente il formaggio potete metterlo grazie a questa favolosa griglia, piastra, scusate, si piega e potete versarlo direttamente sugli alimenti che avete preparato. Consiglio, se usate il formaggio raclette, di fare un piatto con patate al forno e dello speck, veramente è un piatto buonissimo, grazie mille di avermi ascoltato. Comunque consiglio di acquistarla perché è veramente un ottimo prodotto, se amate i formaggi dovete assolutamente averla.